Ma guarda quante sono, ti stanno seguendo tutte! Oddio! Oddio! No, 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 scherzavo! Tornate da Emerald! Tornate da Emerald! Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Minecraft Magical Adventures Qui con me c'è il buon Emerald Ciao a tutti ragazzi E siamo qui davanti alla forgia Perché adesso la forgia diciamo che è un po' più completata Ci abbiamo lavorato un casino C'è un video di Emerald Che vi invito a guardare per tutta la fatica che ha fatto Ha costruito praticamente lui Tutta la forgia Che questa praticamente fa parte della mod La tinker mod E questa qui è la forgia dove noi possiamo creare Armi potentissime E adesso vi mostreremo infatti come crearle La forgia è già completata Qui dentro possiamo notare che c'è Dell'alluminium sciolto Perché si scioglie mettendolo dentro questa macchina Che è praticamente La smeltri Che praticamente lo scioglie E qui dentro abbiamo dei patterns Che servono per creare i vari oggetti Sono le forme Praticamente dobbiamo usare Manico La testa del piccone E anche La fine del piccone Non saprei come dirlo adesso Esatto Ecco Quindi non è che come il piccone normale Cioè è come il piccone normale Che si fa nella crafting table Con i due sticks Eccetera Solo che Sulla tinker è un po' più complicato Perché dobbiamo Fondere i materiali Dentro queste forme Allora Adesso Che abbiamo queste patterns Dovremmo Praticamente Metterne una qui In questa specie di tavolo Ecco Noi abbiamo la forma Adesso se tu premi il tasto destro Avrebbe O faccio io ecco Ecco C'era già dato Il manico Vediamo Vediamo qui Abbiamo Un manico Di allumite Di alluminium Adesso noi Non siamo ancora soddisfatti Non ci basta solo il manico Mettiamo anche la testa Premo il tasto destro Ecco La forma si è riempita E adesso abbiamo Anche la testa Benissimo Ci manca solo la parte inferiore Quindi Anche questa Adesso ce la prendiamo No adesso ne ho fatto un'altra testa Ok Allora Come faccio a levarla Così E adesso abbiamo anche la parte inferiore Perfetto Eccome la data Abbiamo ripreso tutto Benissimo Adesso dobbiamo andare su un tavolo Chiamato Il tool forge Possiamo creare Tante armi Tanti oggetti Come un martello Che praticamente serve Per distruggere i blocchi O una falce Penso Per le farm Ma Adesso noi faremo Il piccone No Allora mettiamo Il bastoncino sotto Il manico al centro La testa sopra Ecco che abbiamo Un piccone Che ha anche Un potere Si potrebbe dire Che è rinforzo 2 Che Emerald Mi ha detto che Praticamente rinforzo È come se il piccone Fosse Il doppiamente Più potente Di quello che è Quindi durerà Di più Ma a noi non ci basta Un piccone così Noi possiamo ancora Potenziarlo E personalizzarlo E per questo Ci servono Dei diamanti O della redstone Adesso per esempio Abbiamo della redstone In questa cesta O anche dei lapislazzuli E addirittura Dei smeraldi Mi pare anche I smeraldi Giusto? Si Ecco adesso Proveremo Andare qui Mettiamo il piccone E aggiungiamo magari La redstone Possiamo notare Che adesso Al piccone Si è aggiunto Praticamente Un altro manico Che dovrebbe Aumentargli La resistenza O sbaglio Quella redstone La velocità Ah ok La redstone Dà velocità al piccone E adesso Abbiamo praticamente Un piccone più veloce Ma possiamo aumentarlo Quasi all'infinito Diciamo Fino a 50 Di redstone Ecco C'è un piccolo trucchetto C'è un piccolo trucchetto Se noi ti mettiamo i blocchi Di redstone Valgono come 9 Ah perfetto Ok quindi adesso Praticamente questo piccone Dovrebbe diventare Una scheggia Una ferrari Praticamente Di velocità Allora vediamo Ok adesso non compare Perché No Aspetta 1 2 E 3 Ok vai Farlo ancora Adesso è al massimo Della sua potenza Mi pare No Mi manca ancora Vai Ok perfetto Perfetto Ora abbiamo Un piccone A massima velocità Che tra poco testeremo Ma non No aspettate Adesso si Si va ancora Cioè Prova con gli smeraldi Prova con gli smeraldi Vediamo cosa fanno Vediamo cosa fanno Aggiungono Una specie di cosa sopra Mining level Cobalt Dice speed Durability Non aspetta Aumenta la durabilità Eppure No Ah no Secondo la durabilità Di tantissimo Più 50% Mi ha dato Una roba assurda E non si aumenta più Ne basta 1 Ne basta 1 Ok adesso proviamo A mettere i lapis lazuli Mi da un altro Una cosa sotto Questo qui Dovrebbe aumentare La fortuna Quanto so Perché Aspetta un attimo Te lo dico subito Perché noi abbiamo qui No c'è scritto l'app Esibili rossi Davvero Quindi è fortuna È fortuna Praticamente Adesso Questo piccone Dovrebbe trovare Dei materiali Ancora Più rari Sì È massimo 450 Quindi faccio subito Dei blocchi Di lapis lazuli Vabbè intanto Tu preparali E io vedo C'è ancora una cosa Mi pare Possiamo utilizzare Il diamante Giusto Per migliorare Adesso no Perché Un piccone Potete avere Massimo 3 upgrade Non abbiamo stati già tra Praticamente Se usavamo anche Il diamante Cioè Se avessimo magari Tolto lo smeraldo E avremmo utilizzato Il diamante Sarebbero comparse Delle cose Color Azzurro Gnolo Ecco Color diamante Si potrebbe dire A destra e sinistra Del piccone Ok Adesso mettiamo Questo piccone Mettiamo i lapis Qui Ok Ora C'è la fortuna Questo diamante Fortunatissimo Adesso Non metto l'ora Di provarlo In caverna Adesso Magari possiamo andare In quella caverna Che abbiamo visto Lì sotto Invece no So se ti dico Questo possiamo fare Per fare Dei piccone Ancora più potenti Quindi che di base Battono anche questo Dove andare Per forza Nel nether A trovare I minerari Quelli speciali Che si possono rompere Soltanto con I picconi Fatti con Questa forgia Capito Ah ok Perché ci sono Dei materiali Che allora Si possono distruggere Solo grazie A questi picconi Con un piccone Normale Non funziona Ok Esatto Perfetto Allora muoviamoci Andiamo subito Nel nether Un attimo Io ho fatto qua Ancora altri blocchi Ok va bene Allora facciamo una cosa Adesso noi Lo potenziamo Ancora di più E ci vediamo Tra poco Davanti alla porta Del nether Ok gente Siamo davanti Al portale Entro prima Io dai Sono sprettante Del pericolo Entro subito Perché questo piccone Mi proteggerà Io lo so Ormai è diventato Proprio Mamma mia Guardate il nether Che roba è questa Ma che roba è questa Aspetta Mi puoi dire Cos'è questo Ossa Materiale osseo Non so Tipo come si è fatto in qua Guarda Mentre è veloce a scavare Ah Infatti guarda È velocissimo Una roba assurda Scommetto che questo Magari è un materiale Che ci mette un anno A spaccarsi Con il piccone Guarda Guarda Il piccone in diamante Ti faccio Fai Ok aspetta Fai l'esempio Allora Con un piccone di diamante Vabbè È più o meno uguale Dai Vediamo Sì questo è un po' più veloce Sembra leggermente più veloce Comunque Non è che si nota tanto la differenza Forse bisogna Ok questo qui Guarda È uno dei minerali Quello che ti dicevo io Allora questo con il diamante Non si può distruggere Ma con il nostro piccone Si può distruggere Perfetto L'hai preso Sì sì E non avevi mai ottenuto tu Questi materiali Li avevi sempre lasciati perdere Sì esatto È perfetto Allora adesso possiamo ottenere Aspetta se Dammi il piccone in diamante E questo è un materiale organico Che mi dicevi Ecco Quello che hanno utilizzato Per fare il drago Era questo qui Sì sì Possiamo comunque prenderci Cosa ci dà Cianco flash Cioè pezzi di carne In pratica Sì sì Stupendo Cioè dopo io mi faccio una casa A me mi faccio una casa Tipo una bocca Di una rana Mi faccio magari E ci entro dentro E divento tipo l'eremita Delle rane Così Ok si è posto Fai una cosa Trasformiamoci in uccellini Qualcosa per volare In modo che Ok Vediamo se ho qualcosa Ho una Un'ape Mi trasformino in un'ape Dai Perfetto C'è un cavallo dell'inferno Vedo però C'è un pig zombie piccolo Che lo guida C'è anche che lo cavalca Adesso lo butto top Lo butto giù No 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 Non volevo disturbare il vostro amico Ok io trovo qua Buttatevi giù Sono troppo intelligenti Ah ecco Questo è il vantaggio Di essere un'ape Nessuno mi può Beccare Ah doppio senso Perfetto Qua c'è una forza Guarda Guarda che ho trovato Io invece Questo blocco qua È un blocco strano Se io posso romperlo Si posso romperlo Eh si aspetta Però Non lo rompiamo subito Un attimo Poi cercare di salvarlo Vediamo se Si può droppare E prendere in qualche modo Infatti perché Sennò si sparisce Tranquilli ragazzi Penso io sono un architetto Eh Ok Ok proviamo Eh Mi devo liberare Ancora un Butto via le torce Tanto Non penso che mi servano Aia No mi sono bruciato No è una È un bat Un bat del nether Mi aveva attaccato Ma ha dato la sunstone Ah era tipo Pietra solare Pietra Ma Ah la sun Si chiamava Sunstone Si Sunstone E serve a fare La sunstone block Che Sunstone block Serve a fare Un cazzo Ah ok Così per bellezza Si Vedi se riesce a prenderlo Questo qua sotto È abbastanza delicato Ok proviamo Ah questo qua Mannaggia Qual ci vuole il lavoro Di Gabby Guardatelo Guardatelo Proprio così Di cattiveria Lui sotto E questo E con questo Magari Penso che possiamo provare Anche Ok ce l'abbiamo Penso che possiamo provare A tornare indietro Magari nel mondo normale Provare a craftare qualcosa Ok Eh Magari una spada più potente Dai Si si dai Però dov'è il portale di casa Eh non preoccupare C'è un waypoint Io Cosa che cavolo è sto Nido di api Nido di api nel nether Nido di api giganti Aiuto No ma Secondo me Questo nido C'è dentro Io non ho spade Per proteggermi Eh ci sarà qualcosa Dentro E io però Non ho spade Per proteggermi Stanno attaccando Un sacco di api Basta Via No Non mi piacete Non mi piacete No pungete Oddio Ho trovato il miele Ho trovato il miele No voglio miele Anch'io Tipo di domen Tipo di domen Tipo di domen Ok Wow Wow No no Guardate È tutto trasparente Poi il miele C'è i blocchi di miele Bellissimo No aspetta Io lo voglio Si rompe così Si rompe Aspetta Rompilo No no Io me lo prendo Vai prendilo tutto C'è sto blocco Ci facciamo il nostro Alveare personale Ci trasformiamo in appi E poi mentre registrano Gli episodi Gli altri Ah no aspetta Questo qui No questo qui Era in miele Quello diciamo sopra Che non posso più uscire Mi to blocca Ti da slowness Comunque Eh certo Il miele ti droga Dai perché appiccicoso One block Empty One combo Eh qua ci serve per il coso Il secchio Secchio Qualsiasi secchio Io ne ho due Eh prendi il miele Col secchio Ah si me l'ha dato One bucket Ho due one bucket Perfetto Io ho gli one block E lo posso posizionare E lo posso posizionare Ah si Proprio guardate Non lo so Non lo sai Come sei entrato Ma era qua Qua trovato Ecco Ok Ok Trovato Trovato Perfetto Sì libertà Basta basta Mai più alveari Comunque abbiamo rubato Il vostro miele Inutile che mi inseguita Ormai il vostro miele Oddio Sto in seconda me Sto in seconda me Sto in seconda me No no ma loro sanno Che io ho il miele Cioè non mi lasciano più A queste Ma guarda quante sono Ti state seguendo tutte Oddio Oddio No 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 Scherzavo Tornate da Emerald Tornate da Emerald Brute api assassine Vediamo se mi seguite In mezzo alla lava Vediamo se mi seguite Anche qui Bruciate Si sono incendiate Mi hanno inseguito In mezzo Ci sono No stupendo Tu cerca di trovare Il portale Mentre io le distrago Dai Ho trovato la collina Delle verruche Si Non vedevo l'ora No comunque Ciao pig Ciao pig zombie Aiutatemi No comunque Sembra che Abbiano mollato la presa Si hanno capito Che con me Non c'è speranza O mi stanno ancora seguendo Ok no no Non hanno capito niente Hanno capito solo Che io ho loro miele Questo hanno capito Io sono a 300 blocchi Dal costo Al portale Ma io vorrei Aspetta voglio tornare Ad essere No mini golem No Un blaze Così sono anche resistente Alla lava Giusto Dovrei non morire Nella lava Ok Io adesso sono un blaze E posso navigare Nella lava Ok Ti puoi dire Da me Ok Arrivo Ok benissimo Possiamo tornare Nel mondo normale E vedere se questi Materiali che abbiamo trovato Sono dei materiali Buoni E Decenti Ok c'è Una bella piazza Ok dimenticavo Che un blaze Muore Praticamente Torniamo normali Va bene Ragazzi Adesso siamo Di nuovo tornati Alla for Già vediamo se Fonde il nuovo materiale Che abbiamo trovato Niente Non lo sta fondendo Forse perché c'è già Del materiale No questo qui è il lapis Il lapis non lo fonde Ah il lapis ok Ok Mettici l'ardito Proviamo il cobalt Allora Ok sì sì Allora questo funziona Vedete Guarda lo sta già creando Lì E quindi tra poco Dovremmo avere del cobalt Da mettere qui dentro Questo Allora possiamo usarlo Per lo stampo giusto Già direttamente Ok Quanto ci metterà Deve finire giusto Di farli tutti Quindi ragazzi Ci vediamo Tra un attimo Quando ha un attimo Finito di fondere Tutto il cobalto Mi sembra sai cosa La fabbrica Quella là Dei giochi preziosi Quella là Dove ti creavi Con gli stampini Con il cobalto Guarda i mining level Mining speed E 11 Con il manilium E 9 Però guarda la resistenza Aspetta 2.000 3.000 Di durabilità E se lo togli Ne ha 2.000 Quindi C'è 1.000 Di durabilità In più Quindi ragazzi Avete capito Insomma Si possono Il bello della forza È che tu puoi combinare I materiali Come vuoi E a seconda Del materiale Il piccone Diventa più potente In pratica Esatto Qua ha combinato così I materiali Unendo Che materiale è quello Che hai utilizzato adesso Il cobalto Il cobalto E il magnilium Ecco Questi due E ha fatto un piccone Anche più potente Del mio Che aveva il tuo Più 5 Poi più potente Anche di forza E aveva una durabilità Molto superiore Al mio Da quel che ho visto Il mio aveva 1000 Passa Adesso non mi ricordo Io penso che comunque Per questo episodio Abbiamo fatto anche abbastanza Cioè abbiamo costruito Un paio di robe Siamo stati nel nether Quindi ragazzi Io vi invito a passare Nel canale di Emerald Per l'episodio Intanto quello scorso E anche per i prossimi Quindi io spero Che il video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Al prossimo Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.